A distanza di nove giorni dall'incidente di Ponte Nossa, Loredana Filisetti non ce l'ha fatta. La donna era stata ferita nell'incidente avvenuto al Ponte del Costone venerdì 19 maggio. Weekend di festa ad Albino per l'ordinazione sacerdotale di Don Marco Nicoli della frazione di Desenzano. Una grande gioia per tutta la comunità. Arcieri da tutta Italia ad Alzano per la 53esima edizione del Roving Giusei Pesenti Calvi, torneo nazionale di tiro istintivo con l'arco. A vincere è stato Filippo Donadoni, già pluricampione del mondo. Buonasera a tutti i telespettatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con le notizie di Antenna 2. Apriamo l'ampia pagina di cronaca a distanza di nove giorni dall'incidente di Ponte Nossa, Loredana Filisetti non ce l'ha fatta. La donna era stata ferita nell'incidente avvenuto al Ponte del Costone venerdì 19 maggio. Sentiamo Vladimir Lazzarini. È morta ieri all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo Loredana Filisetti, la donna di 68 anni di Ardesio, rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto venerdì 19 maggio a Ponte Nossa lungo la statale della Valle Seriana. Insieme al marito Pierangelo Zanoletti viaggiava su una Fiat Punto che si era scontrata con una Citroen su cui si trovavano una donna di Gorno e la figlia. Nell'impatto Loredana Filisetti aveva riportato gravi lesioni alla colonna vertebrale. Con l'elicottero era stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove ieri è deceduta a nove giorni dall'incidente. Lascia il marito che proprio oggi è stato dimesso dall'ospedale e due figlie. Il funerale sarà celebrato a Ardesio mercoledì 31 maggio alle ore 15. Ancora una notizia tragica e deceduta. La donna di 53 anni è colpita da un fulmine nel pomeriggio di domenica nel territorio di Zona in provincia di Brescia, sul versante del Monte Guglielmo tra il paese Bresciano e Pisogne. La donna Evelina Tomasoni di Manerbio era stata portata in gravissime condizioni al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Appassionata escursionista è stata sorpresa da un temporale a 1800 metri di quota in compagnia del marito. La donna era stata soccorsa, intubata e trasportata all'ospedale Bergamasco dove purtroppo è spirata nella notte. Due interventi per i tecnici della stazione di Breno del soccorso alpino sono stati attivati nella giornata di domenica per una donna di 86 anni che aveva avuto un malore mentre si trovava in una baita sopra il paese di Ossimo in Val Camonica e poco dopo un'altra attivazione per un escursionista di 60 anni caduta lungo il sentiero nella zona del rifugio Medelette sopra Pisogne che aveva riportato un trauma a una gamba. La donna è stata raggiunta, valutata sotto profilo sanitario, stabilizzata e portata fino all'ambulanza di SMA, Bisogne Soccorso. Ultima pagina denunciata per falsità materiale sanzionata per guida senza patente una donna di origini brasiliane fermata dai carabinieri del nucleo radiomobile di Clusone nel territorio di Albino nella notte tra domenica e lunedì attorno alle 2.30. La donna classe 1991 a bordo di una Seat Cordoba è stata fermata dai carabinieri ai quali ha esibito una patente portoghese. Dagli accertamenti fatti nel corso della giornata la patente si è rivelata falsa. Il documento contraffatto è stato sequestrato. La donna è così stata denunciata per falsità materiale e dal punto di vista amministrativo rischia una sanzione dai 5.000 ai 30.000 euro per la violazione dell'articolo 116 del codice della strada. La compagnia dei carabinieri di Clusone accentuerà i controlli sulla circolazione stradale per contrastare e possibilmente censire al meglio il fenomeno. Cambiamo argomento weekend di festa ad Albino per l'ordinazione sacerdotale di Don Marco Nicoli nella frazione di Desenzano. Siamo andati a trovarlo il giorno dopo. La prima messa ci ha raccontato la nascita della sua vocazione. Siamo con l'imprato novella Don Marco Nicoli e il giorno dopo cosa resta? Quante emozioni provate in questi tre giorni? Le emozioni sono state tante e soprattutto vedere una comunità che mi ha accompagnato in questi anni stringersi attorno a me in questo momento. e scrivevo qualche tempo fa su un articolo ma anche sul mio diario spirituale che varcare quei gradini che separavano dove ero seduto in chiesa a salire appunto sull'altare di fronte al Vescovo ho sentito la forza e il sostegno di tutta la preghiera della mia comunità della mia grande famiglia che è questa di Albino, Desenzano e Comenduno che si sono davvero strette e unite insieme e davvero le emozioni sono tante e difficile metterle insieme se non in una frase, in una parola che è un grazie un grazie perché davvero ho percepito che siamo chiesa, siamo insieme e chiedo al Signore che questo grazie possa essere una grazia per tutta quella gente che mi è stata vicino che il Signore possa farsi sentire vicino loro con quello di cui più hanno bisogno. Il Signore che si è fatto sentire vicino a te fin da piccolo la domanda più classica potrebbe essere cosa ti ha portato a questo quando è nata la vocazione? Non c'è un momento preciso dove è nata è nata da rileggere la mia storia cercando e scoprendo il Signore dietro ogni singolo evento ogni singolo passaggio penso che sono entrato appunto in seminario dopo la quarta, la quinta superiore anni in cui ho preso un po' più in modo serio la scelta di cosa fare della mia vita e la scelta è nata dopo diversi anni dalla morte di mio papà e vi spiego il perché perché l'ho visto affrontare la sua malattia con un rosario in mano e sempre pronto a dare un sorriso per tranquillizzare chi si preoccupava per lui e allora davvero fino all'ultimo ha sollevato al cielo questo sguardo e questo sorriso che aveva stampato sul volto allora davvero ricordo come un felice addio che però non è rimasto solo un ricordo perché chi mi è stato accanto in quegli anni mi ha invitato a rileggere quello che ho visto fino a desiderare di sperimentare quella gioia che vedevo e allora anch'io ho preso in mano il rosario ho iniziato a sgranarlo qualche volta in più e in quella pace che si prova quando si sta accanto al Signore e gli si affida la vita mi sono chiesto perché non posso vivere anch'io questo per tutta la mia vita e da lì pian pianino seguendo il Signore e il mio cuore mi sono ritrovato un po' su questa strada finché un giorno ho dato il mio sì al Signore e da quel momento quel sorriso e quella gioia sperimentata mi hanno sempre accompagnato sia nei momenti belli che anche nelle tempeste nelle fatiche che la vita e ogni scelta vocazionale comporta adesso che è passato il giorno di festa cosa ti aspetti? che sogni hai? il desiderio grande è che prendendo spunto da un testo di un santo a me molto caro che raccontava di questa storia in cui una regina doveva salpare per un lungo viaggio seguendo il suo re la gente chiedeva a questa regina spesso dove va, dove sa le varie tappe del viaggio e lei continua a dire no, vado solo perché c'è il mio re il desiderio di poter farmi alla sua risposta che concludeva il testo che era io non desidero tanto il viaggio semplicemente seguo perché io desidero stare dove c'è il mio re e quindi desiderio che l'aspettativa è che davvero ovunque il Signore mi mandi a me interessa che ci sia Lui perché se c'è Lui tutto il resto poi è diverso si trasforma e viene di seguito in quanto non siamo mandati noi ma siamo mandati con Lui alla gente che incontreremo proseguono i corsi a cura del distretto del commercio di Clusone quest'anno è toccato gli aspiranti barman a mettersi alla prova con esperti del settore il servizio di Nicola Anderoletti Uno dei temi che stanno particolarmente a cuore al distretto del commercio Alta Valle Seriana Clusone è quello della formazione quest'anno declinata per i baristi Sì, ogni anno abbiamo cercato di dare un valore aggiunto al nostro territorio puntando appunto sulla formazione l'anno scorso si era fatto un lavoro sui commercianti lavorando sul tema dell'e-commerce, dei social quest'anno si era deciso di andare a toccare un po' quelle realtà che erano state un po' sfiorate e meno negli altri anni e quindi si era deciso appunto di fare un lavoro sui baristi puntando sul tema appunto della formazione continua in questo caso quindi abbiamo deciso di iniziare da un corso base di bar, di caffetteria per poter elevare un po' il livello di tutto il nostro territorio dal punto di vista delle proposte anche sempre legate anche alla gastronomia quindi noi amiamo sia il mangiare ma anche il bere di qualità Sono Fiorenzo Colombo, sono un barman dell'Abi Professional e quest'anno ho stato incaricato qua a Clusone a tenere un corso di barman professionale abbiamo ricevuto una bella accoglienza perché gli studenti sono stati molto attenti e interessati avremmo forse speso qualche ora in più volentieri perché veramente volevano sapere e penso di aver fatto un buon lavoro e sono convinto che quanto abbiamo appreso assieme sarà utile anche per la loro professione Quali sono stati i temi che avete affrontato durante il corso i concetti che avete cercato di far passare? Allora fondamentalmente portare conoscenza, consapevolezza e competenza nei professionisti locali perché la cosa più importante è riuscire a trasmettere la passione anche ai propri colleghi, collaboratori e soprattutto trasmettere ai clienti che si sentono coccolati da questa magia della passione che fa sì che ogni drink sia speciale perché è solo per lui questa è una cosa importante e fondamentale oltre a questo anche riuscire a lavorare con un minimo di attenzione al marketing perché è fondamentale così come all'economia del bar che oggi deve risultare il più possibile utile visto la situazione condizionizzata che c'è quindi è necessario che si sappia bene quello che si fa soprattutto quando si lavora Siamo con una delle partecipanti al corso come è stato? È stato utile? Molto utile, devo dire interessante comparare un pochino, mettere insieme tutte le cose è stato un po' così caotico però devo dire che ne è valsa veramente la pena soprattutto per quanto riguarda il discorso del corso e anche per quanto riguarda il professore che è stato veramente molto bravo Qual è l'aspetto che hai piaciuto di più? Allora prima cosa l'aspetto che mi è piaciuto di più è stata sia metà parte teorica e metà parte pratica quindi siamo riusciti anche a metterci in gioco e la seconda cosa è stato bello conoscere altri baristi di Clusone e la cosa più bella di tutte è stata che non c'è stata competizione ma anzi c'è stato confronto quindi una bella situazione, un bel clima, molto bello Ci spostiamo ora a Gandino dove è stata posata in questi giorni la panchina del Doppio Lago la panchina gigante situata sull'altura del Monte Sparavera sarà inaugurata con una breve cerimonia domenica 4 giugno alle 11 Un lungo progetto quindi che finalmente ha avuto un esito bello anche Gandino avrà la sua panchina Sì, è un progetto nato due anni fa io viaggiando in altre regioni soprattutto in Piemonte, in Trentino vedevo queste panchine vedevo comunque la gente che le visitava la gente con i passaporti mi sono incuriosito un po' questa cosa e ho visto che queste panchine oltre ad avere una posizione privilegiata sul territorio quindi ti fanno vedere sempre luoghi particolarmente belli dei territori ti portano anche un giro turistico che permette anche poi all'attività del posto di lavorare nei ristoranti, bar e comunque far girare gente Perché è proprio così in vetta? In vetta perché quel punto sulla Sparavera è un punto per me molto bello e simbolico è un punto in cui ci può davvero godere di un panorama sull'Europa unico in questa zona e a 360 gradi dalla Presolana a tutte comunque le montagne più importanti intorno a noi e non per ultimo i due bellissimi laghi di Endine e di Zeo Il montaggio è stato abbastanza complesso perché si arriva tramite bullatiere siamo riusciti tramite una persona con il trattore e con la gru a poterla posare però poi è andato tutto bene diciamo che anche gli artigiani che hanno lavorato a questo progetto sia nella parte legno che nella parte metallica hanno fatto i lavori proprio alla perfezione Adesso per tutti i turisti che arriveranno come funziona? Dove trovare i passaporti? Come arrivare fin lì? Innanzitutto troveranno i passaporti e i timbri nelle due prime attività a cui le abbiamo assegnati che sono il caffè centrale di Gandino e il bar Zenucchi a Peglia quindi i due paesi comunque delle Cinque Terre dove avranno accesso anche ai sentieri e alle strade per salire alla panchina Qui potranno sia timbrare il loro passaporto anche venendo da altre regioni sia poter comprare il passaporto direttamente e quindi cominciare questo giro delle panchine del Big Bench Lorenzo Aresi anche la Proloco è stata tra le protagoniste di questa missione possiamo dire ancora una volta un lavoro di squadra a Gandino che ha portato un gran risultato con questa panchina Sicuramente sì è stato proprio un lavoro di squadra un lavoro di equip e la Proloco ha accettato volentieri la proposta di Mauro Giudici che ci ha chiesto appunto la collaborazione per poter montare per poter posare questa big bench sulla sparavera l'ITER è stato abbastanza difficoltoso tra virgolette perché bisogna fare la richiesta dei progetti dei permessi al comune di avere i disegni da parte dell'organizzazione i quali poi vengono a controllare che la big bench sia a norma come loro ci hanno dato i progetti è stato deciso di montarla appunto su in sparavera perché è un luogo caratteristico un luogo che anche l'associazione delle big bench ha valutato favorevolmente proprio perché è una zona panoramica appunto dove si può vedere sia il lago di Iseo che il lago di Endine e girando la testa girando di 180 gradi si vedono tutte le orobbie con la presolana il coca il pizzo del diavolo e quant'altro quindi è stato proprio un lavoro di squadra sapendo benissimo che a non tutti possono piacere le big bench perché dicono che deturbano il paesaggio ma noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio affinché questo non accada abbiamo scelto dei colori abbastanza semplici neutri di modo che non vadano a impattare troppo sul panorama ha collaborato con noi anche il distretto delle 5 terre della Val Gandino con il coordinatore Gian Battista Gherardi che ci hanno supportato sia per la parte della stampa sia per la parte pubblicitaria e anche per la parte organizzativa adesso non resta che inaugurare questa panchina sì effettivamente la panchina è stata posata in questi giorni proprio perché il 4 giugno verrà inaugurata su Sparavera con una piccola cerimonia con la benedizione da parte del nostro curato e con la partecipazione dei nostri sindaci e delle nostre autorità e quindi vi aspettiamo il 4 di giugno alle ore 11 sulla Sparavera per vedere appunto l'inaugurazione e ammirare questa panchina e il luogo bellissimo nella quale è stata posta era un atteso ritorno e nemmeno il maltempo fermato la voglia di grandi e piccoli di vivere dal vivo l'undicesima edizione di Come d'Incanto il festival degli artisti di strada organizzato dalla Proloco di Ardesio è assente dal 2019 vediamo come è andata peccato per il brutto tempo ma comunque questa undicesima edizione è andata sta andando e si sono ripartiti soprattutto questo era importante sì allora questa undicesima edizione è partita questa mattina con il centro dell'Incanto tanta gente tanti bambini soprattutto il sole nel pomeriggio è arrivata la pioggia ma comunque la risposta della gente è stata molto positiva abbiamo subito messo in campo il piano B che era quello di ospitare gli spettacoli al chiuso quindi palestra teatro dell'oratorio e la gente ecco sta partecipando con grandi interesse nonostante il mal tempo quali sono state le scelte di quest'anno? allora abbiamo dato spazio in mattinata iniziative come ludobus truccabimbi palloncini principalmente dedicate ai bambini e nel pomeriggio la proposta è di artisti quindi abbiamo dato il via con una banda musicale che ha fatto una parata per poi seguire con diversi artisti quindi giocoleria acrobatica aerea fuoco e i vari stili cosa c'è dietro un'organizzazione come questa? quanti siete? allora è un'organizzazione come evento è abbastanza impegnativo si parte verso inizio anno con la fase di selezione di quelli che sono gli artisti riceviamo sempre molte candidature da parte di quelli che sono gli artisti che vogliono partecipare è comunque una manifestazione che ormai è conosciuta all'interno del panorama di questo settore e dopodiché dopo un'attenta analisi si scelgono quelli che si ritengono gli artisti migliori da proporre per i vari spettacoli tenendo sempre conto delle varie tipologie quindi cerchiamo sempre di rappresentare un po' tutti gli stili di queste discipline quindi proloco protagonista come spesso succede ad Ardesio qual è stato il vostro impegno in questa manifestazione? sì il nostro impegno più che altro è stato organizzare i luoghi e gli artisti che si esibiscono ad Ardesio perché dopo non c'è molto da fare sono loro il punto il punto forte di questa manifestazione purtroppo abbiamo dovuto spostare alcuni spettacoli per causa pioggia e abbiamo spostati nella palestra comunale e nel teatro dell'oratorio anzi ringrazio tutti per la collaborazione e la disponibilità uno dei tanti appuntamenti vostri da tradizione ecco che 2023 va spetta adesso che estate va spetta? ma il programma dell'estate è comunque abbastanza fitto ci saranno le nostre solite feste come l'Ardesio di Vino l'Ardesio si blocca il raduno delle moto d'epoca e dopo saranno caratterizzati da tanti altri piccoli eventi come la settimana del Ferragosto Ardesiano che ci saranno dei concertini musicali in giro per il paese piuttosto che dei tornei di carte una tombolata c'è molto in programma adesso a breve uscirà il libretto estivo della Proloco dove ci saranno tutti i nostri appuntamenti si spostiamo ora dal Zano Lombardo dove sono stati i protagonisti nello scorso weekend arcieri arrivati da tutta Italia per la 53esima edizione del Roving Giusi Pesenti Calvi torneo nazionale di tiro istintivo con l'arco a vincere è stato Filippo Donadoni già pluricampione del mondo ma il successo è stato quello di tutti i partecipanti che hanno onorato nel modo migliore la memoria di Giusi Pesenti Calvi nella storica Villa Belvedere Cosa rappresenta questa gara? Una nuova manifestazione è stata ripristinata all'antica tradizione negli ultimi anni Allora l'île Roving nasce nel 1958 per una intuizione del dottor Giusi Pesenti ed è stata la prima manifestazione di arco di tiro istintivo che si svolge all'interno dei boschi simulando se vuoi il tiro alla caccia quindi ci sono contrariamente a tante altre manifestazioni che oggi sono in voga ci sono delle sagome su cartone che ci consentono di potenziare la precisione di tiro di ciascun arciere i tipi di arco sono tre ricurvo lombo e storico abbiamo i cacciatori le diane i senior e i bambini e i cuccioli Perché avete ripristinato questa tradizione? Diciamo che la tradizione non è mai questa manifestazione non si è mai fermata sostanzialmente è stata ripristinata per volere del dottor Giusi Pesenti che ha lasciato nelle sue memorie testamentarie questa indicazione di poter di dover effettuare questa manifestazione tutti gli anni e per noi è un grande piacere poterla riorganizzare tutti gli anni come era in passato L'edizione di quest'annata come è fatta? Quanti concorrenti? Da dove vengono? Allora quest'anno abbiamo un centinaio di concorrenti abbiamo cercato di come ti dicevo di riallacciare un po' i contatti con il passato e abbiamo dei vecchi campioni per esempio abbiamo un Nino Grassi che viene da Roma abbiamo parecchie persone che sono venute dal Veneto da Milano dal Piemonte quindi direi che il Nord Italia è molto ben rappresentato e anche diciamo la parte laziale Cosa rappresenta appunto per la vostra famiglia questa occasione nel luogo simbolo dello zio? Ma è un'occasione molto importante per ricordare lo zio e soprattutto per vedere tutta la gente con cui appassionati che vogliono bene allo zio e vogliono bene a questo sport che lui ha creato Una villa che come famiglia avete frequentato cosa ha di speciale? Allora diciamo questa villa qui ha tantissimi ricordi bisogna visitarla proprio per capire l'importanza e tutta la passione che aveva l'u zio nel raccogliere tutte le vecchie testamenti foto e quadri è una cosa un po' particolare che bisogna visitare anzi consiglio di passare a visitarla E come ogni settimana sale l'attesa per la rubrica Il sasso nello stagno in programma domani alle 20.40 Toni Tranquillo ci presenta in attemprima di cosa ci parlerà Domani sera tornerà l'appuntamento con il sasso nello stagno fa molto caldo almeno oggi qui a Nembro e quindi domanda classica quando scoppia il caldo di fine maggio le vacanze partirete qual è il periodo che avete scelto per le vacanze avete scelto le vacanze consultandovi con un'agenzia viaggi avete fatto il fai da te attraverso internet insomma queste e tante altre domande che riguardano la sfera delle vacanze estive tutte le interviste domani sera ovviamente alle 20.40 Antena 2 TV adesso una in anteprima dopo un anno di lavoro è anche giusto godersi un po' di vacanze quindi pure lei fa parte del gruppone degli italiani che partirà direi di sì poi dipende sempre dalle economie di ogni famiglia però direi che poi alla fine anche se sono brevi si fanno ma già pianificato da solo in compagnia pianificato pianificato una settimana al mare e una settimana in montagna quindi c'è qualcuno che ama anche la montagna scarpinare io soprattutto perché essendo maestro di sci quindi comunque lo sci alpino è uno degli sport che è pratico anche a livello diciamo di divertimento non solo diciamo non solo lavorativo certo dove? in quale zona? se si può dire? beh sì io giro 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 parecchio ma in vacanza ha già prenotato ha già deciso dove andrò? dove andrò andrò a Bressanone a camminare perché comunque mi piace anche il trekking e quindi ecco questo è mentre il mare? mare vado in Sardegna a Costa Rei però una settimana tranquilla e beh insomma comunque è un bel progetto sì esatto e quale periodo dell'estate? primo periodo quindi a luglio la prima settimana di luglio sono a Costa Rei e poi invece la prima settimana di agosto sono in montagna sì per notte col Pai da Te ci si appoggia un'agenzia quasi sempre telefono direttamente in struttura veniamo ai programmi della serata su Antenna 2 alle 20 e 10 tempi supplementari alle 22 e 30 la seconda edizione del Tg di Antenna 2 alle 23 e 0 5 il concerto dalla banda di Clusone e corpo musicale in Ponte Nossa e a mezzanotte 45 la terza edizione del Tg di Antenna 2 veniamo al manacco del giorno domani martedì 30 maggio il sole sorge alle 5 e 29 tramonta alle 21 e 0 6 la luna è crescente sorge alle 15 e 48 e tramonta alle 3 e 32 del giorno successivo la chiesa ricorda San Paolo VI Papa e con questo è tutto dopo il Tg andranno in onda il Tg Sport e le previsioni del tempo a tutti voi una buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti